Percorso natura, dopo una lunga sepoltura, con bavaglio e casa chiusa. Percorso all'aperto, libero e ossessionato dalla forza fisica, mi butto e campione mi rilancio e vivo come Tarzan sugli alberi nella foresta. Percorso natura, dopo una lunga sepoltura, per il covid, per questo e quell'altro motivo, anche il tempo ci si mette. Piove a catinelle, ma io mi butto su, percorso natura. Dopo una lunga sepoltura, mi trovo finalmente a contatto con la natura. E adesso vi dico che la mia forza viene fuori in queste cose, mi sento così bene, mi sento ossigenata. E la paura, la paura del niente se ne va.